E ragazzi, come va? Io sono FieriNiki E io sono Stefanie, che si è G-MagicPod E oggi torniamo con la modalità di The Floor in Slava Questa volta in compagnia di Lion e Anna Esattamente, la volevamo provare assolutamente questa modalità in quattro Perché eravamo super curiosi E devo dire che è stato davvero divertente È molto divertente Perché diventa molto più, diciamo, pericoloso il PvP Dato che in quattro succede di tutta tra uova che volano Gente che si spinge, eccetera, eccetera Abbiamo provato due mappe molto interessanti La seconda sarà quella che avevamo già fatto Perché secondo me è una delle migliori Però la prima è davvero carina e divertente Quindi buona visione con i video Speriamo che vi piacerà Io vi dico soltanto una cosa Quando tirate un uovo esplode E abbiamo uovo infinite Buon divertimento Oh mamma mia Voglio fare attenzione qui Io cerco di nascondermi il più in fretta possibile Arrivederci No, allora facciamo un patto però, eh Per favore Ok Le nuove esplosive sono bandite fino alla fine No, ti prego Dai Bandite fino alla fine? Dai, perché Fino a quando non arriva molti in alto Va bene, dai Ok Ok Io ti propongo un'alleanza Contro le donne Noi due? Ma come? Contro Ferre e Anna? Sì, no Vai Guarda, ti tirò le uova Tira Ferre Ma io sono Cos'è successo? Io e Steph ci siamo uccisi a vicenda Poi Anna è morta da sola Quindi non è stata una buona idea Io pensavo che sbalzassero e basta Ma invece ti vanno proprio a esplodere Ti uccidono Anna Attento Guarda Sei rimasto l'unico Devi vincere tu Devi vincere No Oh Steph, mi vergogno Mi vergogno Non voglio fare più il video Vado via Ma come hai fatto? Velo Non lo so Perché tu mi hai detto Devi vincere tu C'è da dire che lei aveva La posizione strategica Perché era fin alto No, stiamo cercando scuse tristi Non è vero Non sono scuse Solo poco poco triste Un po' Un po' Un po' Io mi sono già fatti i miei calcoli Per andare nel punto più alto possibile Vengo con te E quindi mi sono fatti un po' di studi Però Non so che poter mettere Sono un po' indeciso Io so come si arriva di là Vieni Metti gli stivali Allora Stivali Ok, ok Anna già ha capito però Mi sa che Anna è sopra Dove voglio andare io Ma dove? Non te lo dico Fede Dove sei? Dove sei? Steph, guarda qui Vieni A questo Non farti vedere da Fede Sei tu Ma dove stai? Dove stai andando? La rana io, la rana Dove stai? Dove stai la rana? La scopa L'ho perso La scopa Eccomi Aia Aia Qui, qui, qui Sali Io non so salire Come no? E tu sai salire? Non mi sembra Cavolo È un po' buggata Cavolo Aspetta Ci serve un percorso alternativo Anna è lì sopra che ci guarda Corri Qui, qui Dove? Dove andiamo? Dalla rampa di legno Corri però Ok, ok, ok Arriva, arriva, arriva Guarda che Hai gli stivali Eh, no Però Come no? Ho i calzini Ho i calzini Andiamo Vabbè, vabbè Andiamo, andiamo, andiamo Ma aspetta però Loro sono più in alto No, io sono ancora qui in basso Perché non trovo una strada per salire Cioè non è che sono messa bene Dove possiamo passare? Ci provo Allora No, fanno schifo ste corde Ok, feria andata Siamo noi due contro Anna Qua c'è un'altra di quelle scale Ma non funzionerà sicuramente Vieni qua Qui Eh, ok E cosa vuoi fare? Non ci riusciremo mai a usare la scala C'è un'altra strada da qui, no? Aspetta, io ci provo Ci sono le scatole Se ci svegli Non lo so No No, no, no Usivo la tua abilità Tu sì Allora, io con la mia abilità Posso provare Ad andare Devo ragionare Devo ragionare in fretta Devo Devi essere veloce ste Guarda sopra la mia testa Eh Forse fa Ma c'è una via per me anche Eh no, mi sa che Con la tua abilità Cavolo Ti ricorderò per sempre Prova dai trappati Vai, vai, vai Quella funziona Quella funziona Allora aspettate che voglio usare la scala anche io Ma guarda che secondo me era buono il tuo di piano, eh Ma, ma come Cosa? Ok, ok, ok Eccomi, eccomi, eccomi Ci sei? Buongiorno Bravo Anna dove? Anna secondo me non riesce ad andare così in alto No, no, no Guarda No, ci muore Guarda è in pericolo Eh ma pericolo No, 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 no Ci muore, ci muore Anche lei si è incastrata nella corda No, non ci provare Vigliacco Aiuto Vigliacco mi ha tradito subito Ah, sono caduto No No È morto? No, sì Anzi ora sì Dai Dove sei rimasto? Io stavo svoleggiando mentre stavo per morire E lui ne è morto Vabbè È stato punito dal karma È il karma Lì che mi spinge Che vigliacco Io stavo ancora guardando a Anna mentre mi spingeva Chi arriva più in alto vince Facciamo team tutti contro di lui Ragazzi Cambiabilità Eh, sono nato direttamente nel punto più alto della mappa Guardalo lì sopra Guardalo Scendi No Scendi Steph No Scendi Scendi Ciao belli Come si sta lì sotto? Allora Se riesco a cambiare la mia abilità Teoricamente Cos'è successo? Non lo so No, mi ha teletrasportato Così pari No, come a cambiare tua abilità mi ha fatto tornare lì sotto Forse ci riesco Mi è venuto in mente un piano Che stai facendo? È morto Non lo so Ah, è morto Ma come? Ma come? Sono abituata ai calzini No Cari, non prendi danno No, no Però sono ancora viva io Sono ancora viva Dov'è Ferre? Non so come ma sono ancora viva Ferre sta arrivando la lava Zero metri Veloce Ferre Fai qualcosa Gli stivali Gli stivali Ah, ok, 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 ok Alla fine è un pochino Sì ma da questa parte Ferre Sei troppo in basso C'è Anna Eh lo so Che devo fare? Che devo fare? Anna è dove ero io prima È in altissimo Eh lo so Ma che ti devo dire? Uh, guarda dove è arrivata Ok Sì, sì, io sono bello in alto Eh, Stef Eh, no, 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 no Anna è più in alto Anna è più in alto Vedi dove ci sono gli scaffaloni Quelli e quello aperto Lei è dentro quello aperto A livello di altezza Oddio Comunque Se tieni premuto culo La puoi vedere Guarda che idea Ma che fai? Oh, ma è caduto È bella Sembravi Spider-Man Guarda Ferre qui abbiamo un vantaggio L'abbiamo già giocata a questa mappa Sappiamo i punti più alti Quindi non possiamo perdere Contro loro due Mi raccomando Anna però è bella in alto Anna è sempre in alto Zitta, zitta Trovi Nei posti migliori Guardate come Mi ingeco sopra la tua Guardalo Guardalo Non ti basta Non ti basta Uh, ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Come hai fatto Ma chi mi ha spinto Tu mi hai spinto Anna Ma è il posto mio Ok Mamma mia Ma guardate Ok, ci stiamo tutti e due Piano Attenti perché la lava sta già arrivando Oh, mamma mia Dove vado Ferre, ma perché sei qua Dove vado Andavo a salire sulla torcia L'hanno sul vaso E non so se faranno in tempo Non ho idea Mi sa di no Ce l'ho fatta? Non ce la faccio Non sale Oh no Anna Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Io ci sono Anna è andata Mi è caduto di sotto C'è sanitaria sulla torcia Mi ha dato una stinta Buttandomi avanti Oh, sto Gekko ti fa sudare freddo Però Sì, mette ansia Mette ansia Allora Questo round è mio Devo cercare di battere Addirittura il miglior posto di Ferre Chi è che è andato dentro il forziere? Ferre, sei tu che sei non in quello bello? Ok Non è un'idea Anna ti sta seguendo Vediamo chi fa il migliore Anna ti ha seguito Ferre Allora, dovrei riuscire Lion? Sì Cosa ci fai? Niente A salire Stiamo spawnato qui Non è vero Sì No, no Tu sei venuto qua Perché mi hai visto? No Che potere hai? Ehm Non te lo dico Ah, maledetto Allora Aspettiamo la lava Va bene? Va bene Ok, 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 ok Chissà Sarebbe bello Se uno di noi due Riuscisse a salire su questa torcia Vero? Sì Però ti dico Che il mio obiettivo Non è quella torcia Ah Cosa stai combinando? Ah, capito No Dimmi che non hai i calzini Oh, i calzini Cavolo, anch'io Ma dai E cosa voglio puntare? Eh Eh Guardare ci prova Troppo poco, caro Troppo poco È difficile Io ci ho provato una volta Contro Fere Non ci sono riuscito Mi sa che non ci si riesce Lo so Lo so Infatti sto puntando all'impossibile Ma è l'unico modo per battere quello di Fere Quello di Fere è inaltissimo Almeno riesco ad arrivarci Non so Prova tu Vado L'ho sferato No, l'ho sferato Aspetta Aspetta Vai No Niente No Niente Era un piano ambizioso Però Lo so Lo so Però mi sa che non è sufficientemente forte quel potere Io sono morto Anna Dov'è Anna? Anna è inaltissimo Ma dove è finita? È meglio Io sono incastrata qui È dentro la cesta Non salta Sopra il ferro Anna sta vincendo tutto Ha vinto Ha vinto Ha vinto Ti postra inaltissimo Io non so se sei mai andata così in alto Fere Ho il dubbio Ok ok basta No mi saltava Io non potevo andare in alto Beh Avete perso un round Perso un round? Perché? Eh beh Dov'è? Dove vedete? Eh beh Allora No, non lo so dove Fere Dimmi Tu dove sei? Eh boh sono andata a nascondere Cioè ad arrampicarmi dentro Non lo so dove sono finita Perché io sto provando a guardare con Q Ok E mi è sembrato di vedere a te e a Anna Lion mi sembra di non vederlo proprio E dove si è nascosto? Allora Uno, due Dov'è il terzo? Dov'è finito? Lion Eh Ci devi dire qualcosa? No Sicuro? Sì Sei sopra la torcia? No Più in alto Più in alto? Più in alto della torcia Sopra il quadro? No Ciao Ma tu pare sei occupato questo posto Ma sei bassissimo Ma dai Io ero pure preoccupato Fere Guarda dove sta Guardalo Ma io pensavo di essere molto più in alto Lion girati un attimo Girati Guarda la porta Eh lo so Eh lo so Questa è buona Questa è buona Questa io l'ho perso allora Pensavo di essere molto più in alto No Purtroppo no Lì non è abbastanza Loro addirittura Se tu entri da quella porta C'è tutto Eh non c'è un uovo Ti ha tirato un uovo È riuscito a prendere Dimmi che non sono caduto di sotto No Non sei caduto Speravo che tu camminassi Eh infatti Perché ho preso Eggmaster E quindi volevo farti cadere così Sto restando immobile Ok Anna si è spostata Quindi Lion è l'unico che morirà Mi sa Valedetto Mi ha ricolpito Sì Lion è il primo che muore Anna si è spostata È stata furba Invece lui è rimasto là Schiatta Ok meno male che adesso brucia Eh sono morto Così mi lascia in pace Ok Uffa Allora Fere Siete nel punto più in alto insieme Eh Anna si è spostata Sì più o meno Anna Ok La vedo Ok Che abilità hai Fere Guarda E la so Con la di rampicarmi Ok Anna se Fere sale da te la devi spingere Le sto tirando le uova Anna devi andare No non posto Ma morirai Sconfiggiamo Steph Basta che muoia Ma dai Ma guarda che Io resisto ancora due metri e mezzo Oh ce l'ho fatta Fattemi vedere No 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 Mettila Anna se non ha spostata Mi avete fatto venire il panico Io ho spinto eh Certo certo Colpa vostra Colpa vostra Fere dimmi quanto ti manca la lava Come metri Eh 3.3 3.2 Cosa ma stai scherzando No Ma dai Muori Muori No questo è davvero il punto più alto Lo volevo provare Perché l'ha provato Anna Ed è davvero il punto più alto Non è possibile Come hai fatto Anna Mi ha spinto lui Mentre mi stava rampicando Ma come Dai Ho sbagliato Era il mio momento Ti ho provato 50.000 volte Per la prima volta Salgo mi devo ritrovare Anna Che è riuscita a salire Spinta da lion Eccomi Eccomi Ce la fa No Quasi Quasi Fammi vedere il tuo tentativo Come funziona Praticamente devi saltare Più vai veloce Più salterai in alto È più pochissimo Non c'è per un pelo No No è arrivata la lava Ma è bellissima Quell'abilità Sì sì Più corri veloce Più salterai in alto Usain jolt Mi piace un salto Va provata Va provata Però Allora Anna come facciamo Anna spingilo Spingilo Vai a La devo rendere cieca Corri E poi la spingo Ma Spingilo Ma come fa a saltare Guardala Come si arrampica Spingilo Spingilo Ok Ok capisco Vai via Ok ok Ti rai un uovo Ma smetti di arrampicarti È di volta Non è possibile Adesso Spingilo Vai via Vai via Via Ti rai un uovo Adesso Anna Adesso No Arrampicati Ok stai su Stai su Stai su Scendi Stai su No Finisce l'energia Ok Perfetto Maledizione Era presto Ti puoi arrampicare Anna Allora Io ho ancora i miei calzini Ma dai che lotta No salta Arrampicati Vado sopra Arrampicati 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 Sì È un pelo Bene che stai giusti Questo è tutto Stai giusti un like E sempre una volta Se il nostro video Potete continuare Da iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao